Il libro che voglio consigliarvi è Mancanze di Alessandro Fo, pubblicato da Einaudi nel 2014. È una raccolta di poesie, suddivisa in tre sezioni, che nasce dalla necessità di affrontare la vita all'insegna delle mancanze, mancanze di persone, di situazioni, di certezze d'assoluto. È un libro complesso, ricco di citazioni tratte dalla tradizione cristiana e pagana, ma inserite all'interno di un contesto intimo, familiare, quotidiano. In altre parole è l'esperienza stessa che all'interno di mancanze diviene occasione di poesia. Una delle mancanze più avvertite dal poeta è quella di un supporto divino, verso il quale le cose umane tendono, ma di cui avvertono e percepiscono la mancanza, la lontananza, l'assenza. La poesia in questo senso aiuta, aiuta non tanto a colmare la mancanza, quanto a spiegarla, a cercare di renderne conto, avviando una sorta di processo di purificazione, di catarsi, che aiuta a liberare dalla mancanza stessa. Per concludere, consigliandovi la lettura di questo testo a me particolarmente caro e di grande sensibilità, vi leggo una poesia tratta dalla prima sezione, Libro d'Oro, in cui l'allusione alla mancanza e alla perdita sono rese attraverso la metafora del furto, dunque un'occasione quotidiana, quella di uno scippo. Ma giocare è molto difficilissimo. Ti hanno scippata, piangi, sostituisci le chiavi di casa. Tutto si fa intanto allegoria. Il furto si abbina a cose che se ne vanno, valori e feticci futili, traslocati già nell'aldilà, in un loro aldilà di inesistenza. La tua penna turbata tracima in una mia. Muoiono intanto inutili le mie chiavi che ancora conservavo. A afferrare l'attimo e reagire non ci si deve mai piegare al pianto, ma velocemente rivolgersi ad altro, come veloce tutto si rivolge e, deviato il male a un nuovo suo uso sensato, rapidamente fluttuare via.